Gossipita VIP, se lo sussurra, lo svegliamo. L'allenatore di Jacobs espulso dalle Olimpiadi dopo i 100 metri. Rana Ryder, allenatore di Marcel Jacobs, è stato espulso dalle Olimpiadi di Parigi 2024 a seguito di accuse di abusi sessuali. Il suo accredito è stato revocato dal Comitato Olimpico Nazionale canadese dopo che tre donne avevano presentato una causa contro di lui in Florida. Ryder, che allena anche André De Grasse, campione olimpico canadese nei 200 metri, è stato informato che deve lasciare immediatamente i giochi. La World Athletics aveva già escluso Ryder dagli ultimi due campionati del mondo, e l'allenatore aveva recentemente completato 12 mesi di libertà vigilata per una relazione con un atleta. L'avvocato di Ryder, Ryan Stevens, ha denunciato la decisione come un complotto volto a danneggiare le prestazioni degli atleti allenati da Ryder, lamentando che l'allenatore non ha avuto la possibilità di difendersi adeguatamente.